Ritardo nel pagamento degli straordinari, richiamo dalle ferie e doppi turni. Sono queste solo alcune delle criticità che accomunano tutto il personale dell'azienda Ausl della Romagna. La segnalazione arriva dalla CGL di Ravenna che punta il dito contro la carenza di personale. Parliamo di personale sanitario, infermieristico, ma anche di personale cosiddetto del OSS che ha una prevalenza su quella che è la parte assistenziale. Questa realtà, questa situazione, diciamo che riguarda un po' tutta l'Az della Romagna e ha una serie di conseguenze che sono conseguenze importanti. Come dicevamo prima, si parlava in tante volte di doppi turni, di ferie sospese, quindi possiamo anche pensare quali sono le ricadute su quella che è la qualità dei momenti di vita degli operatori sanitari. Tra i reparti maggiormente penalizzati spiccano quelli di emergenza, urgenza e di medicina generale. Va sottolineato che le aree con la criticità più accentuata sono le aree del pronto soccorso, dell'emergenza e urgenza e le aree delle medicine, dell'area medica, perché è ben chiaro che i nostri territori, la Romagna e il territorio del Ravennate, in questo caso, hanno una percentuale di popolazione anziana al di sopra dei 65 anni importanti, con quindi patologie croniche che hanno bisogno di risposte di medicina generale. Grazie a tutti.